comunque lui è stato sulla mia moto l'accesa subito cioè dopo si è accesa mi ha detto l'unica maniera anche l'unica è tirare giù il tuo serbatoio provare sulla mia e vedere se lui me l'ha detto è l'unico che vuole perché così capiamo se la cosa è l'unico modo è quello che la pompa ce l'hai ho trovato anche questo che avete perso l'altra volta e dove il nonno è diventato nonno